A Teramo il dibattito sulla realizzazione del nuovo ospedale a Villa Mosca si intensifica dopo che il gruppo di lavoro incaricato di valutare la fattibilità del progetto ha presentato le sue conclusioni. Il team di esperti istituito su richiesta dal Consiglio Comunale ha esplorato tre diverse ipotesi progettuali per il sito, ma ha riscontrato significative e rilevanti criticità in ciascuna delle proposte, così come nell'area stessa attualmente occupata dall'ospedale Mazzini. Adesso come è giusto che sia esaminato dal Consiglio attraverso la Commissione Speciale Sanità ci saranno confronti, anche un esame ovviamente aperto con tutti i portatori di interesse, un rapido confronto con diverse sedute della Commissione, si arriverà a chiarire quindi nel modo più dettagliato i contenuti dello studio e poi si assumeranno da parte di chi deve decidere, la decisione non dimentichiamo, lo spetta alle istituzioni sanitarie e alla Regione, il sito per l'ospedale di secondo livello nella nostra città. Resta ferma la posizione che abbiamo assunto lo scorso ottobre che adesso va misurata sotto l'aspetto tecnico, quindi dobbiamo adesso misurarci e misurare tutte le situazioni e tutti i rilievi che sono stati sollevati e capire come, quanto e quando anche, perché nel fattore tempo è molto importante, siano superabili. Sulla vicenda il Presidente del Comitato Promazzini, Domenico Bucciarelli, ha annunciato che le criticità avanzate dal gruppo di lavoro sono superabili, in considerazione degli importanti spazi offerti dal sito del Mazzini per un ospedale di secondo livello. Noi abbiamo appreso che riguardano per lo più degli spazi che non esisterebbero nel sito di Villa Mosca per realizzare nuove strutture. A noi risulta che esistono circa 6 ettari di terreno ancora disponibili per poter essere utilizzati e se in questi 6 ettari ci sono delle interferenze nascoste, come sono state rilevate dal tavolo tecnico, noi riteniamo che queste possono essere evidenziate attraverso degli studi appropriati. Nella stessa linea anche il consigliere comunale di opposizione di Futuroin, Franco Fracassa. Non esiste un sito dove non ci siano criticità, quindi quello che dicono i tecnici lascia il tempo che trova. Adesso è una questione sempre stata e lo è una questione politica, perché vede spostare l'ospedale a Teramo significa distruggere una città. Il sindaco ci ha sempre rassicurato che questo non avverrà, quindi noi ci aspettiamo sia nel mondo della politica, ma anche da semplici cittadini, che il sindaco mantenga la propria parola. Ma soprattutto è semplicissimo, basta dire che non si modifica il PRG. Se non va bene il Bazzini c'è Casalena. Quindi noi le aree predisposte per l'ospedale ci sono, ci sono sempre state.